Una bellissima struttura qui a Massignano, 90 posti letto, una struttura dedicata agli anziani non autosufficienti, un impegno portato avanti dal Comune insieme a un gruppo di cooperative che ha saputo fin dall'inizio dare un'impronta giusta a uno spazio così importante. Qualità nella costruzione, quantità negli spazi, grande forze di accoglienza, strutture tecnologicamente avanzate, tutto quello che serve per poter dare alle persone che per anni hanno vissuto il nostro territorio, che hanno raggiunto una certa età e hanno bisogno oggi di essere assistite, di avere vicino una comunità che gli offre servizi di valore e grandissimo spessore. Sono tante le strutture che oggi danno questi servizi, noi vorremmo che fossero sempre di più, perché ci permettono di dare in tutto il territorio regionale una risposta a un bisogno molto particolare che riguarda tante persone e che attraverso questo tipo di risposta evitano di dover magari ricorrere a un ricovero spedagliero piuttosto che essere a carico di famiglie che fanno fatica a portare avanti e invece trovano un'accoglienza di grande qualità.